Per quanto riguarda invece la nomina del professor Conte, devo dire che sono estremamente contenta, è un professionista molto preparato, ha un programma di governo, è il contratto di governo che è stato predisposto dai due partiti che compongono la maggioranza e quindi ha delle linee ben chiare, note, preconosciute da tutti i cittadini italiani all'interno delle quali dovrà muoversi e già in questo mi sembra che ci sia una differenza importantissima rispetto a tutte le altre esperienze di governo. Per cui i programmi elettorali valevano il tempo della campagna elettorale e poi svanivano nel nulla. Io direi che questo impegno importante è invece da premiare e quindi siamo assolutamente fiduciosi e ottimisti. Grazie.